Sbloccare i fondi per il dragaggio del porto canale di Pescara è un dovere istituzionale dell'autorità del sistema portuale di Ancona. Lo dice senza troppe perifrasi Lorenzo Sospiri, consigliere regionale di Forza Italia. Se gli 800 mila euro che servono per garantire nell'immediatezza e l'agibilità del porto adriatico non saranno sbloccati a breve, sarà premura del nuovo governo regionale farsi ricevere ad Ancona per chiedere chiarimenti in merito. Le nostre flottiglie di pescherecci, i nostri armatori, i nostri parchatori lavorano in grandissima difficoltà. Cioè ogni sera non hanno la possibilità della minima distrazione perché rischiano di rimanere incagliati nelle fasi di rientro e di uscita. L'autorità marittima che dovrebbe essere del medio adriatico, ma che in realtà è solo di Ancona, non ha forse inteso che noi ce ne andiamo se non ci danno le attenzioni che ci devono. Devono immediatamente procedere con la realizzazione dell'aggiunta degli 800 mila euro per dragare che dobbiamo sommare agli altri 650 mila euro in corso per effettuare un dragaggio che ci permetta con i lavori che poi si devono fare, con i insieme che poi si devono fare, di non rimanere più in emergenza. Questo è il tema. Ora ovviamente appena il Presidente Marsiglio sarà ufficializzato, una delle prime cose che gli chiederò è di convocare questi signori al fine di avere certezza sul lavoro che devono fare. Questa mattina intanto all'Aquila si è riunita la Commissione regionale Via per stabilire l'impatto ambientale dei nuovi lavori che riguardano il porto canale di Pescara e per capire se la partita potrà essere chiusa a livello regionale o se dovrà constare di una valutazione nazionale. La Commissione Via, quella che valuta l'impatto ambientale, dovrà dichiarare se i lavori che devono partire per la realizzazione del nuovo porto canale di Pescara, che vuol dire portare il fiume al di là della diga foranea e quindi garantire da una parte un minore insabbiamento e dall'altra che le acque del mare non influiscono sulla costa con i relativi problemi di inquinamento, visto i livelli non ancora eccezionali del fiume Pescara, oggi questa Commissione valuterà se le opere possono partire o se c'è bisogno di un passaggio nazionale. Io mi auguro che si possa chiudere qui in Abruzzo e che di conseguenza non perdiamo altro tempo perché le condizioni del nostro porto sono di nuovo molto molto preoccupanti.